se sei fuori dall'edificio e la butti dentro una finestra tu sei a posto benissimo 20 minuti di giardino e dentro la casa cioè tre in totale o tre fuori e tre dentro in totale abbiamo due granate due granate queste ve le consegno a voi dobbiamo distruggere la difesa esatto eliminate tutta la difesa e il colpito che ha la bomba in mano la può lasciare e la prende un altro si può avvisare bomba da prendere quindi mi raccomando in casa colpo singolo questo era un po' problematico anche il mio è un po' ok sono due colpi vai tranquilli anche da te la di sopra si si tu le finestre Alto o basse? Alto! Pronto! Sve finestre! Alto o basse? Alto! Alto o botto! Alto o basse? Alto o basse? Alto o basse? Nu formare i donn things Alto o basse? Alto o basse? Inц MPN c'è toccato io canto come l'ho fatto per stare a giro forte fa un culo